Siamo con il Man of the Match della partita tra Imperia e Rivasamba, vinta per l'Imperia per 3 a 2, Roberto Fici, Man of the Match. Grandissima partita, grandissime rincorse, il primo gol diciamo che l'hai fatto tu perché comunque hai servito una palla sulla linea da spingere soltanto dentro. Sì, è andata bene, è andata bene. Oggi è stata una partita tosta perché fino alla fine è stata da soffrire. L'importante è aver portato a casa il risultato che ci dà la giusta carica per la prossima partita che decisamente segnerà per noi tanto. Quindi noi siamo pronti e settimana dai, siamo carichi al punto giusto. Ecco appunto, una vittoria che aiuta sicuramente per il morale e per la partita della prossima settimana visto che a questo punto con la sconfitta del Genova Calcio vi ritrovate a solo meno 3 punti. Sì, meno 3 punti, andiamo là, ci giochiamo tutto e noi vogliamo vincere, vogliamo concludere al meglio questa annata a Genova e le prossime due dopo la sosta ci diranno realmente cosa abbiamo fatto fino adesso. Che sicuramente è molto positivo perché negli ultimi due mesi abbiamo fatto dei grandi risultati secondo me. Grazie Roberto. Grazie a te.